dai scrivi quello che abbiamo ovviamente quando dobbiamo scrivere, dobbiamo scrivere, non è che... abbiamo riscontrato, e anche il fatto del bar, no? abbiamo riscontrato, non ci sono problemi neanche nessuno sul collega, abbiamo, si scrive con l'acca o senza acca? abbiamo, vabbè dimmi tutta la frase scorso allora, dopo un accurato sopralluogo abbiamo riscontrato... con l'acca, in questo caso con l'acca con l'acca, che l'abbiamo riscontrata la forza di voi vuoi la cultura, la forza di voi chiedi, quando è qualcosa, chiedi? fabbricazione fabbricazione e abbiamo, abbiamo, no, un'altra no, senza quella sede, perché uno si e uno no ecco, uno si e uno no abbiamo